Io non so bene esattamente cosa si veda, a parte il mio naso rosso credo si veda benissimo Questo è il primo video dell'anno e io ve lo faccio struccata perché mi vorrei truccare con voi Con un naso veramente rossa e infreddolitissima perché dentro casa mia dei musifoni si accendono la sera e a mezzogiorno mi sto ghiacciando Quindi ok, niente, volevo fare il primo video dell'anno e pensavo di fare un mi preparo con voi Una cosa molto semplice visto che oggi non devo fare niente Perché oggi è il 2 gennaio credo E non devo fare nulla di nulla perché domani ricomincio il tirocinio perché la dottoressa, la mia tutor stava in ferie fino ad oggi Quindi da domani si ricomincia ad andare al centro e vado domani mattina Oggi tecnicamente stando lunedì a serie andata di pomeriggio ma appunto non vado L'unica cosa che devo fare è andare oggi pomeriggio, stasera verso le 7 in palestra E anno nuovo si ricomincia ad andare a pole dance ma non si è mai smesso fondamentalmente Perché la palestra non ha chiuso ma è rimasta sempre aperta Però volevo darmi una truccata perché cioè così Io stavo andando in giro così ma c'ho sto naso dal vivo non è così rosso come lo vedete voi Vado a mettere un po' di fondotinta, questo è il Made to Last di Pupa Che ho comprato l'altro giorno per Capodanno ma perché volevo un fondotinta anche un pochino più coprente Rispetto alla BB Cream che sto affinando di Garnier Quindi l'ho preso l'altro giorno lo vado a mettere con il solito pennello Quando non devo fare niente di troppo particolare non vado a mettere neanche il correttore Faccio proprio una passata di fondotinta giusto per uniformare un pochino l'incarnato Altrimenti se devo uscire o comunque qualcosa di un po' più importante da fare Metto anche il correttore sui brufoletti Me ne è venuto uno qua ma questo credo siano stati i stravizi fatti durante le feste Perché durante le feste nonostante io sia a dieta Sto continuando la dieta il 2 febbraio mi pare ho il controllo dalla Sì dalla ginecologa stavo dicendo Dalla dietologa Ci sono andata il 22 o il 23 mi pare il 22 E è andato bene io non pensavo Non mi ricordo quando ho fatto l'aggiornamento E non so neanche se vi interessa che se vi aggiorni Però a me fa piacere condividerlo quindi lo condivido E metto un po' di cipria Io sporco solamente il pennello Cioè il pennello è ancora un po' sporco di ciprio Quindi faccio proprio una passata così tanto questo fondotinta Dura abbastanza E vado a mettere sul Come al solito sugli zigomi Questa terra di Di essence sì che mi piace tantissimo E sono appunto andata dalla Dalla dietologa Io pensavo non so perché Qualche sgarretto l'avevo fatto Niente di eccezionale Insomma sempre stata attenta Ma era capitato di mangiare fuori Perché era il periodo delle prefeste E quando inizia già dicembre Uno non so perché Ci sono più cene fuori Avevo tipo avuto due compleanni in un giorno Quindi avevo provato a stare attenta Ma non era stato così facile Io l'ho confessato Però nonostante tutto ho perso altri Due o tre chili Non mi ricordo Comunque fate conto che io partivo Il 6 ottobre del 2016 Ormai dell'anno passato Da 90 chili Cioè Sì diciamo A metà settembre pesavo 90 chili Quando sono andata dalla dietologa La prima volta Dopo circa un mesetto Quindi diciamo che I primi di settembre pesavo 90 chili Il 6 ottobre Ho perso solamente 2 chili Quindi con un mese da sola Ma stavo un pochino attenta Ma non troppo E quindi il 6 ottobre Sono arrivata dalla dietologa Che pesavo 88 chili E il 22 dicembre Quindi in novembre Diciamo due mesi Ho perso 11 chili in totale Contando anche i due Che avevo perso da sola Quindi sono scesa sotto Gli 80 Sto a 79 So che è solamente una cifra Sotto Però sono contenta Ah Parentesi Facciamo un trucco semplicissimo Appunto perché non devo fare niente Quindi vado a mettere Le liner di Kiko L'ho ricomprato Questo è il terzo Che compro perché mi piace tanto Non so come si chiama Precision eyeliner Di quelli con la puntina In feltra Normalissima E quindi ho perso 11 chili In due mesi Facendo una dieta Abbastanza semplice Pasta La mangio La carne Non mangi i carboidrati la sera Quello ecco Non poi non mangio le uova I latticini Però sono cose che Come già vi ho detto Non mi mancano Perché non è che ne mangiassi Poi chissà quanti Quindi non è un problema L'unica cosa che mi manca Un po' magari È metterci un po' di parmigiano Sulla pasta Ma ogni tanto Insomma una grattugiata Proprio così Per far vedere che c'è La facce Non lo diceva a nessuno E quindi sono contenta Perché insomma Ho affrontato le feste Con un po' più di sollievo Durante le feste Lei mi ha detto Nei giorni Nei pranzi Che ne so Il 25 a pranzo Il 24 a sera Tu mangia quello che vuoi E poi magari Sei attenta Che ne so Se il 25 a pranzo Mangi Il 25 a sera Magari mangia una cosina Più leggera Un pezzetto di carne Un po' di così Anzi Certe volte neanche ho mangiato Perché ho mangiato Talmente tanto a pranzo Che non c'hanno Neanche bene Non è giornata È lunedì È un giorno In cui io Difficilmente mi trucco Quindi ho messo anche male Ma non fa niente Lo mettiamo comunque così Vado a sporcare La parte sotto Delle ciglia Con un po' di nero Io prendo questo della Naked Perché è l'unico Che ho a disposizione E prendo questo nero qui Con il 2 17 di MAC E quindi niente Sono contenta Le feste sono andate benissimo Ho passato il 24 a sera Con i miei parenti Da mia nonna E anche Corrado è venuto E mentre il 25 e il 26 Siamo stati con i parenti di Corrado Anche perché io Comunque i miei parenti Abbiamo la sana abitudine Secondo me Di passare tutte le domeniche A pranzo insieme Quindi Il Natale a me non è che cambi molto Perché Alla fine Quello che facciamo ogni domenica Ecco non è che Rivedo parenti E non vedo mai No Noi ci vediamo sempre O comunque ci sentiamo Siamo una famiglia bella unita Quindi Ecco a me Poi essendo capitato anche di domenica Il Natale Proprio non è che mi cambiasse tanto Anzi Mi ha fatto più festa Perché appunto Siamo stati dei parenti di Corrado Che magari Invece loro non si vedono spesso E quindi Abbiamo preferito fare così Nel senso Il 24 a sera dai miei E il 25 e il 26 con i suoi Mentre a capodanno Volevo farvi vedere l'outfit Però poi alla fine Mi sono preparata in ritardo Come al solito E non ho fatto in tempo A mostrarvelo Volendo Comunque un outfit Che può essere utilizzato Anche per una sera Ed ho preso un vestitino di Telly Telly Whale Io lo chiamo Telly Whale Però non so se lo dico bene Comunque di Telly E volevo farvelo vedere Quindi se vi interessa Magari comunque un outfit Lo posso fare Così Per una serata Ecco Tenete conto che l'ho usato per capodanno Ma Alla fine per capodanno Siamo stati a casa di una mia amica Abbiamo cenato Aspettato la mezzanotte E giocato a carte Ecco quindi E poi verso le Che erano le tre Stavamo a casa Tre e mezza La mattina Ci siamo svegliati Siamo andate a pranzo Da mia nonna Cioè ieri Siamo andate a pranzo Da mia nonna Perché hanno fatto il pranzo Tutti insieme Ma anche lì Era domenica Quindi era un pranzo Normalissimo E quindi niente Ho passato delle belle feste E avevo un po' paura Di essere un po' più malinconica Però devo dire che Non è successo Ecco proprio perché A questo punto Dovrei essere malinconica Ogni domenica Perché appunto Noi ogni domenica La passiamo insieme Ecco quindi Non mi ha fatto tanto strano Cioè un po' sì Però ne ho parlato anche Col terapeuta Mi ha detto Comunque potrebbe succedere Metto un po' di blush Mentre chiacchiero Potrebbe succedere Comunque Essendo un periodo dell'anno Un pochino delicato Quello delle feste Per delle persone Che hanno subito Magari un lutto È un pochino peggio Però ho tutta la mia famiglia Intorno I miei amici Corrado Quindi ecco Diciamo che sì Naturalmente il pensiero C'è sempre Ma quello non è che C'è solo a Natale O a Santo Stefano C'è sempre tutti i giorni E oltretutto Gennaio non è proprio un mese Che devo dire Che dall'anno scorso È entrato nelle mie grazie Anzi E quindi ecco Sarà un periodo Un po' più così Però non Non mi voglio Non mi voglio A parte Mamma mia Dalla telecamera Faccio veramente Piene e pietà Poi ho la sciarpa Questo giacchetto da casa Sono proprio una vecchietta E niente Quindi dicevo appunto Gennaio non sarà un mese facile Però piano piano Ce la si fa a far tutto Ecco L'importante è pensarci Ma non logorarsi Nel pensarci Non so se ha senso Questa frase Per me ha senso E quindi niente Che dobbiamo fare Comunque Si va Si va avanti Sempre e comunque Magari delle volte Si rallenta un pochino Delle altre no E diciamo ecco Che gennaio appunto Non è tra i miei mesi preferiti Questo si può dire tranquillamente E cambiando discorso Altre cose nuove Ho rifatto gli occhiali nuovi da vista Perché mi sono resa conto E mi si era abbassata tantissimo E quindi Sono andata a fare la visita Effettivamente Non è tantissimo Quello che mi manca Cioè Nel senso Da vicino ci vedo bene Non vedo bene un po' da lontano Soprattutto la notte Mamma mia ha detto Che la notte è normale Vederci un pochino peggio Sono miope Per uno Da un occhio Il destro è quello che funziona Un pochino meno Però insomma In confronto ad altre persone Che hanno la vista molto più Calata della mia Io sto abbastanza bene Però già che c'ero Mi sono fatta anche gli occhiali nuovi Ho preso questi di Versace Visto che c'era un'offerta Con le lenti comprese E sono carini Ehm Sono già da pulire Perché sono sozzi Scusate i capelli Ma oggi stiamo così È lunedì Perdonatemi Lunedì l'odio E niente Quindi questo era Un piccolo resoconto E più che altro Un video Per augurarvi Tutto il meglio Da questo nuovo anno Speriamo Incrociamo le dita Che vada bene Non andrà tutto bene Perché 365 giorni Sono tanti Qualcosa di sbagliato Accadrà sicuramente Io Sono anche un po' Certe volte Sembro un po' pessimista Ma preferisco Definirmi realista Quindi non può andare Tutto perfetto Tutto alla grande Però anche le Anche gli inconvenienti O qualche Qualche doloretto Nel senso Soffrire un po' Ogni tanto serve Perché ti fa scoprire Quanto una persona Può essere forte Vi giuro che si può essere Molto forte Anche se non Non lo si crede Ah io non ho messo Neanche il rossetto Ma proprio perché Tanto vado a pranzo Da nonna A mangiarmi il minestrone Post feste Quindi capite Che è inutile Che me lo metto E niente ragazzi Spero veramente Questo 2017 Sia un anno Fortunato Non in tutto Ma almeno Un pochino di fortuna Ce la meritiamo tutti Quindi Incrociamo le dita E magari ci aggiorniamo Poi più avanti Per vedere come va Magari a metà anno Vediamo Se c'è qualche Buona notizia Comunque quest'anno Ho delle cose da fare Nel senso che Finisco il tirocini a marzo A me sembra così vicino E un po' mi dispiace Perché mi trovo molto bene Dove sono Quindi Comunque dopo un anno Si instaura anche un rapporto Di dice Ah però poi non le vedrò più Con le persone O comunque non le vedrò più Costantemente Anche se sono tutti più grandi di me Però mi hanno accolto Veramente bene E sono contenta E però poi a giugno Dovrò fare l'esame di stato Per essere iscritta All'albo degli psicologi Quindi questo è una cosa che Un obiettivo Che voglio raggiungere E che voglio Prendere e fare mio Quindi speriamo bene Anche in questo Quindi Questo 2017 Promette bene Adesso dobbiamo stare solo a noi Vedere come andrà E farlo andare bene Più che altro Io ho capelli veramente Che fanno schifo E pietà Scusate Sono mezzi blu Mezzi lilla Mezzi viola Non lo so E niente ragazze mie Quindi io Vi ringrazio per aver guardato il video Vi mando un bacio E ci vediamo presto Con un nuovo video Ciao Ciao